Curiosi di scoprire cosa succederà nella terza puntata della serie TV di Canale 5 L'Ora Inchiostro Contro Piombo? Vi seguito tutti i dettagli Stasera, mercoledì 22 giugno 2022, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata della serie TV L'Ora, Inchiostro Contro Piombo Scopriamo quando inizia, la trama, le anticipazioni, l'orario della messa in onda, quante puntate sono previste e gli attori del cast Leggi anche, L'Ora Fiction con Claudio Santamaria è una storia vera, chi è Antonio Nicastro nella realtà? Tutto su Vittorio Nistico, età quando è morto, causa morte, vita privata, biografia, giornale, letizia battaglia, foto L'Ora, Inchiostro Contro Piombo, quando va in onda? Giorno, canale, dove vederlo in TV L'Ora, Inchiostro Contro Piombo va in onda con cadenza settimanale ogni mercoledì su Canale 5 Stasera in TV, L'Ora, a che ora inizia? Orario La terza puntata della fiction L'Ora, Inchiostro Contro Piombo andrà in onda a partire da stasera, mercoledì 22 giugno Ma a che orario inizia? L'appuntamento è alle 21 e 21, ma non inizia mai prima delle 21 e 45 L'Ora Fiction Claudio Santamaria Anticipazioni Trama, cosa succede nella terza puntata? La trama della nuova fiction di Canale 5, L'Ora, Inchiostro Contro Piombo, è ambientata nella Sicilia degli anni 50 ed è dedicata ai giornalisti ed ai fotografi dell'omonimo quotidiano, diventato celebre per la sua lotta alla mafia Ma quali sono le anticipazioni inerenti alla terza puntata in onda stasera? Di seguito la trama ufficiale, quante puntate sono? Le puntate dell'ora, Inchiostro Contro Piombo sono 10, ciascuna della durata di 50 minuti, e andranno in onda 2 alla volta per 5 prime serate Per scoprire il calendario completo clicca qui Cast completo, attrici, attori e personaggi Claudio Santamaria interpreta il direttore Antonio Nicastro Silvia D'Amico interpreta Anna Nicastro la moglie di Antonio Maurizio Lombardi interpreta Marcello Grisanti Daniela Marra interpreta Enza Cusumano unica giornalista La donna in redazione Francesco Colella interpreta Giulio Rampulla il caporedattore Bruno Di Chiara interpreta Salvo Licata, giornalista e musicista Daniela Scattolini interpreta Nerina Amante di Salvo Giovanni Alfieri interpreta Domenico Sciamma Tiziana Lodato interpreta Silvia Cognula La segretaria Giampiero De Concilio interpreta Nick Ruscica il fotografo Samuele Segreto interpreta Dino Ruscica Marcello Mazzarella e Gaetano Donati Selene Caramazza interpreta Olivia Butera Ossafat Vanni interpreta Marco Maravigna Giorgia Spinelli interpreta l'avvocato Muscara Avvocata Fabrizio Ferracani interpreta Michele Navarra Medi Collino Musella interpreta Duciano Liggio Pari De Benassi interpreta il signor Sciamma Giuseppe Tantillo interpreta Vito Monteleone e voi, dopo aver scoperto la trama, seguirete la terza puntata della serie TV L'ora inchiostro contro piombo, in onda stasera su Canale 5. Restate aggiornati con per scoprire tutte le anticipazioni sulla fiction in onda su Canale 5. Quando inizia, la trama delle puntate, le news sulla terza puntata in onda stasera, l'orario, tutte le curiosità sui protagonisti del cast e il canale dove seguire le repliche della serie TV L'ora inchiostro contro piombo in TV